L'Agenzia Italiana del Farmaco ha revocato il divieto d'uso stabilito in via precauzionale qualche giorno fa del vaccino AstraZeneca. A renderlo noto oggi è stato il direttore generale dell'AIFA, Nicola Magrini, in diretta dalla sede del Ministero, dove ha tenuto una conferenza stampa in modalità online. Dopo le analisi e gli accertamenti del caso, l'EMA ha stabilito che i benefici del siero di AstraZeneca sono largamente superiori ai rischi e dunque hanno dichiarato non vi è motivo di vietarne la somministrazione. Così anche nelle marghe che da domani si riavvia la campagna vaccinale e nelle prossime ore, ha precisato Acquaroli, anche i medici di medicina generale potranno ricominciare quella a domicilio. Nel frattempo stanno procedendo come da programma, i richiami Pfizer e Moderna, gli anziani con più di 80 anni che hanno ricevuto la prima dose tra il 20 febbraio e il 12 marzo. Al lavoro anche l'Azur Area Vasta 1 che ha già predisposto il piano di recupero con un importante dispiegamento di personale medico. Ad illustrarci l'attività è il direttore Augusto Liverani. Visto il via libera all'AstraZeneca possiamo dire che è un vaccino sicuro come gli altri? Sì, sicuramente è un vaccino che ha un ottimo profilo di sicurezza. Fortunatamente il parere dell'EMA ha consentito all'AIFA di programmare la sospensione di questo divieto di utilizzo in tutto il territorio nazionale. Quindi noi potremo ripartire con la somministrazione delle prime dosi utilizzando questo vaccino come previsto dal piano nazionale. Quando ripartirete? Noi abbiamo in questi giorni le nostre sedute che sono occupate per il completamento delle seconde dosi con vaccino Pfizer. Quindi prevediamo di ripartire domenica 21 con le prime dosi utilizzando il vaccino AstraZeneca. Ricontatterete voi gli utenti? Tramite il CUP noi ricontatteremo telefonicamente gli utenti e li inviteremo nelle nuove date. Che cosa prevede il vostro piano di recupero? Sì, abbiamo cercato di impostare le nuove sedute per recuperare le persone che a causa del divieto non abbiamo potuto vaccinare con AstraZeneca. Ora riprendiamo e avevamo 400 dipendenti dell'Università di Urbino previsti per il 16 e 17 marzo che recupereremo sabato 27 marzo sempre al palazzetto dello sport di Urbino. A Fano il 16 marzo abbiamo fatto una seduta incompleta perché avevamo un numero limitato di dosi di Pfizer quindi molte persone oltre 80 anni previste non si sono potute vaccinare e queste verranno recuperate il 2 aprile. Sempre per Fano le sedute del 17 e del 18 marzo verranno recuperate rispettivamente sabato 3 aprile e lunedì 5 aprile mentre la seduta di Pesaro del 18 marzo verrà recuperata il 31 marzo. Entro il mese o i primi giorni di aprile riusciremo a recuperare le sedute che abbiamo temporaneamente sospeso.